Percorre un attimino, arrivando alla Supercopa finale, questa stagione del Scavolini-Sanvolli. Matteo, un secondo posto, due terzi posti e una Supercopa? Direi era ora, perché come abbiamo visto le altre puntate, ormai sembra il romanzo di Beautiful, nelle altre puntate siamo sempre stati a rammaricarci per qualche punto perso alla fine che non ci ha consentito di vincere nessun trofeo, solo di piazzarci nei gradini più bassi del podio e finalmente, come avevamo promesso l'ultima volta, che avremmo provato a salire su quello più alto, ci siamo riusciti. Nel complessivo è stata un'avventura molto positiva dal punto di vista mio professionale, ma anche per il mese passato insieme a un gruppo di ragazze veramente splendido, l'ho ripetuto più volte nel corso di queste interviste, è quello che ha fatto la differenza ed è anche per quello che sono contento che siamo riusciti a conquistare un trofeo perché anche le ragazze se lo meritavano per come si sono comportate durante gli allenamenti, durante questo mese passato insieme. Diciamo che è stata la degna coronazione di un mese di lavoro e di divertimento perché lavoro è una parola un po' troppo forte. Dicono a tutte le ragazze che ho interpellato che però si stava molto bene con lo staff, dunque complimenti ancora a voi, anche con la location degli allenamenti che bagni Baia, però quando andavano i tornei praticamente cambiava tutto perché tutte le ragazze avevano voglia di vincere, tutte le squadre avevano voglia di vincere e diciamo quel clima di sanità e di divertimento proprio si traduceva in clima sano agonismo. Ecco, volevo che ci raccontassi più o meno l'ultima tappa, quella di lena del sabbia d'oro dove comunque c'è stata anche la pioggia, dunque una difficoltà in più o comunque a differenza delle prime tappe che era molto caldo, insomma avete fatto un po' tutto dal grande caldo al vento e alla grande pioggia. Alla fine possiamo dire che la pioggia c'è stata mica perché nelle altre tappe dove non è mai piovuto e non si è riusciti a vincere, invece questa volta è stata una tappa bagnata, si dice tappa fortunata. No, a parte tutto il primo giorno le condizioni climatiche hanno condizionato completamente l'andamento del torneo perché sono state cancellate due partite e si sono svolte solo le due partite del girone. E la domenica invece abbiamo fatto le semifinali la mattina, anche lì sotto, non dico il diluvio, però era molto freddo, se vedete le immagini, le foto della Lega, sono tutte le ragazze coperte, bardate perché era veramente molto freddo. E il pomeriggio, il pomeriggio il tempo era un po' migliorato, però ancora molto nuvoloso e proprio mentre finivamo di giocare è iniziata a piovere. Ma le condizioni atmosferiche, come quando abbiamo avuto il caldo e come quando c'era il vento, erano uguali per tutti. Noi forse ci siamo adattati in media alla pioggia, stranamente, cosa che non eravamo riusciti a fare magari col vento nella prima tappa. Però ti dico, già dalla finale terzo quarto posto della penultima tappa, dove abbiamo giocato veramente bene e a Lignano abbiamo sicuramente disputato le migliori partite e quindi dico che abbiamo vinto anche giustamente perché abbiamo espresso i migliori valori in campo. Bisogna ricordare che Urbino non aveva Kenny Moreno, che abbiamo visto che faceva la differenza, anche se bisogna dire che quando c'era la Kenny noi siamo stati sempre l'unica squadra a metterle in maggiore difficoltà e secondo me questa tappa qui avremmo vinto anche contro la Kenny. Allora, Solforati, 15 titoli della Scavolini, poi raggiunti in questi pochi anni dove te sei stato, partecipi sempre, però anche il tuo primo titolo da end coach è una supercoppa che poi è anche proprio bella, no? Perché è stato un piccolo appunto così personale, lo scudetto lo sappiamo come è, ormai l'abbiamo visto, questa è proprio bella, era tutta aerografata. A parte questa battuta, primo titolo personale, emozioni, sensazioni, comunque hai fatto parte, come dicevo, di tutti gli altri titoli dal terzo scudetto dove eri secondo, però questo è il tuo primo. Sì, questo è il primo successo da primo allenatore, e io penso che comunque tutti i successi vadano sempre suddivisi tra lo staff e tutto il gruppo di atlete e non solo, tutta la gente che lavora dietro le quinte che molte volte non viene ricordata. Ogni successo è sempre un successo di gruppo, non è mai un successo dei singoli. Come mi hanno chiesto anche in qualche giornale, no? La cella è stata premiata MVP, io risposto che è stata premiata MVP la cella perché c'era solo un premio per una giocatrice, altrimenti andava steso veramente a tutta la squadra, perché è vero, una giocatrice ti può dare una mano in un momento particolare, però senza gli altri non si va da nessuna parte. Così come senza il lavoro di tutto lo staff e anche dei dirigenti, nomino Tello Pedini in primis perché è quello che ci ha seguito maggiormente in questa avventura, e anche di Bagni Baia che ci ha permesso di allenarci costantemente, anche cambiando gli orari e creando qualche confusione. Avete ricreato anche l'atmosfera che poi avete trovato in campo. Esatto, sì sì, ti dico, sono state tutte componenti che ci hanno permesso di svolgere il nostro lavoro al meglio, e sono contento appunto di essere riuscito a conquistare un trofeo per me, per le ragazze e anche per la società che ci ha dato questa possibilità di lavorare bene. Per quanto riguarda una menzione va fatta sicuramente alla società, come dicevi te, 15 titoli in pochi anni. Questo sicuramente testimonia la serietà e la professionalità di tutte le persone che vi fanno parte, perché un titolo può essere un caso, ma quando si iniziano a inanellare una serie di successi non diventa più un caso. E quindi anche la possibilità che mi hanno dato di guidare questa squadra dimostra ancora una volta comunque il fatto che non hanno paura di mettere al comando ragazzi giovani magari, perché piuttosto che andare a prendere qualcuno da fuori hanno avuto fiducia di darmi questo incarico, visto che sono cresciuto con loro e quindi sono contento anche di averli ripagati in questo modo. Se abbiamo l'ultimo minuto ti facciamo ricordare a te i nomi delle giocatrici che hanno partecipato alla Scavolini Sand Volley e poi ti lasciamo il microfono per un saluto anche agli utenti di solovolley.it della Scavolini Volley che hanno seguito comunque tramite queste videoreprese e ti ringraziamo a nome di tutti gli utenti le vostre geste a questo mese dove magari la pallavolo indoor sonnecchia ma invece il Sand Volley va alla grande. Dunque la squadra era formata da Elisa Cella, Francesca Mari, Mika Wagner, Monica Di Gennaro e Sonia Perkan. Mi ha aiutato negli allenamenti e nelle trasferte lì alla Ise, come ho detto prima fondamentale l'apporto di Otello Pedini e direi che lo staff è così al completo. Danilo Billi per le interviste e per le scocciature ai campi di gara, no a parte gli scherzi Danilo Billi per aver comunque veicolato questo importante appuntamento. Niente, io ringrazio ancora una volta le ragazze, il mio secondo, la società e salutiamo i pesaresi che ti conoscono anche come giocatore di beach e adesso ti hanno visto in questo nuovo ruolo di coach e di coach, insomma tutto il tuo microfono invece che sei abbastanza conosciuto, Matteo soffrata il nome ma vivo il soprannome. Sì, anche nei giornali Matteo non compare mai. No, niente, saluto tutti gli amici che ci hanno seguito in questo mese e auguro tutte buone feste visto che fra poco si andrà in ferie, quindi buone vacanze a tutti. E finendo questa intervista torneremo sicuramente dopo le ferie o anche prima a riparlare con Matteo Soffrati, magari a livello scritto, con qualche foto. Dunque seguite solovolley.it e seguite il sito della Scavolini Volley. Ciao a tutti da Danilo Billi. Grazie. Grazie.